Un sit-in per ribadire l'esigenza di andare al voto alla provincia di Crotone? Per ribadire il fatto di andare il prima possibile al voto. Il decreto di Storibis prevede una finestra che si stabilisce che si vota entro il 31 marzo. Visto che Crotone vive il paradosso di avere un consigliere anziano che è subentrato ad un vicepresidente, che è subentrato ad un presidente demissionario, riteniamo sia arrivato il momento di indire delle elezioni e dare la possibilità ai consigli comunali di scegliere il presente della provincia che rappresenti un cambiamento che c'è stato perché di fatto la maggioranza che ha sostenuto Pugliese è cambiata perché sono stati rinnovati i due terzi dei consigli comunali. Quindi chiediamo che siano indette nella prima data utile che ad oggi sarebbe il 21 febbraio. Sembra diventato un giochino adesso rimandare le elezioni, ma altra cosa è che non si capisce perché a Cosenza si vota il 5 e da noi ancora non c'è manca una data per l'elezione. Ce lo dicono, il perché è che noi l'accettiamo, però ce lo devono dire, non lo possiamo sentire dire, anche perché i problemi ce li abbiamo noi sindaci su tutto il gruppone. Un po' di chiarezza, non si può votare, perché non si può votare? C'è la pandemia, benissimo, tutto a casa, votiamo l'anno 21. Chiudiamola però, non bisogna stare nell'incertezza, che poi l'incertezza provoca tanti altri discorsi. Io sono qui per dare manforte a questa iniziativa del partito, che è un'iniziativa importantissima perché occorre veramente ridare dignità alla provincia di Crotone. La provincia è retta da un Presidente facente funzione da ottobre 2019, è giusto che si ridia la dignità consentendo di ritornare al voto nel più breve tempo possibile. E' pure vero che c'è un problema di sicurezza, di pandemia, c'è un'indicazione del Governo per lo Stato d'emergenza fino al 31 marzo, anche le elezioni regionali, come sapete, sono state spostate l'11 aprile per questo motivo. Però le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello, non comportano il coinvolgimento della cittadinanza, come sapete, ma soltanto dei consiglieri comunali, dei consiglieri provinciali della provincia di Crotone, per cui non comporta un rischio elevatissimo, per cui sarebbe opportuno, assolutamente, di quello che oggi Fratelle d'Italia vuole dire con questa manifestazione, sia al Prefetto che agli stessi esponenti della provincia, che è opportuno andare a votare nel più breve tempo possibile.